Now, say my name semente casere lo manda iguain eguain 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 e scavarca lo fa qualcosa tagli in carcio io le uore eguine e che cazzo apri gioco pure vada per pianice pianice per iguain, mannaggia, lunga oh, l'hai fatto oh, l'hai fatto oh, che bella oh, mamma mia, grandi iguain, da cacciatore d'aria si sa che cazzo ha fatto il portiere cacciatore, lo ricordi? no, si, da che sostanza, quella pazzoletto smocciolato oddio non va, si, ma com'è passata, non ci posso credere poi quando mi fai te guidare in passamaio che è, che è adesso, cacciatore vai qua bello iguain, iguain, iguain no, perché sta sterzata de merda ha fatto doveva toccarlo e basta vai medel vai medel conco mamma mia, no, questo è allucinante vai oh, questo ci ha lasciato un po' di spazio via, via, via via, via dai, che cazzo che sto madonna mia mamma mia, medel una tiga bella aiuto fallo che forza droga o ci si io basata no, vQ vallo ora ring la non ne ha Laura allora il resto сторону questo numero sbagliato vaffanculo c'ho provato 1 c'è se crede niente la televisione 0 0. valde valde valdi giovani gannacciato l'ultimo mancava aiaiaiai forse ci hanno fatto c'è c'è un uomo fatto sia bella no ma che vuol dire no vabbè questa è proprio questa mente questo vuol dire perchè si corrigano mai fallo e fallo come cazzo devi capì il bacio a miseria ho stata per tutto sta rosso se giallo vaffanculo non partita stregata mamma mia che quando è una cazzo la stoppa ma che riguarda la domanda non è possibile non è possibile un passaggio non ci credo solo su uomo subito bella dai 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 si vabbè c'è la mia ragazza un'attività no vabbè ma porco 2 quanto sei mongoloide da ma come fa ad anticiparmi oh ma ci anticipa sempre ma è normale sta cosa se ti posso che sempre arriva sempre prima che da che da che da non fa cazzate vaffanculo dai sta da solo ma sta in fuorigioco dai sta da solo grazie a chi ma prima cazzo prima non stavi da solo dai bianini taglia tutto taglia tutto abbia mio dio abbia mio dio abbia mio dio no non sai perchè non mi spieghi perchè a lui è entrata prima frustazione proprio questo ma che cazzo cioè a lui con la palla la palla più facile gli è entrata a noi no vai cittimisto nooo non è successo niente mi fa che diventi questo è quella che è venuta dalla partita di ieri qua che liquide oh e vabbè niente ragazzi andiamo un del culo e che devo fa? speriamo di riuscire a fare un punto a questo punto perchè Renzi stiamo a 0 punti dopo 3 partite inizia veramente male la divisione e niente alla prossima Dio Dio